Buongiorno a tutti, mi chiamo Simone Borile, sono il direttore del campus CSD Padua, un istituto universitario specializzato nella formazione linguistica sia per studenti italiani che per studenti stranieri. Padova è una città storica, artistica, riconosciuta a livello mondiale per la sua tradizione universitaria. L'istituto universitario Ciels si estende in una superficie di 35.000 metri quadri, tra aule didattiche, laboratori, biblioteche, mensa, spazi verdi per gli studenti. L'esperienza del Ciels durante questi anni ha permesso anche di creare numerosi rapporti internazionali con università stranieri. Il Ciels è il primo istituto universitario in Italia di lingue con il maggior numero di accordi universitari con istituzioni estere. Dha un paio d'anni il Ciels collabora con le istituzioni della formazione artistica e musicale, Attraverso dei progetti di formazione linguistica il progetto Turandot destinato a studenti cinesi che devono imparare la lingua italiana in Italia. Se uno studente cinese vuole pertanto iscriversi all'interno di una università e conservatorio e accademia d'Italia, può frequentare il primo anno anche presso la nostra istituzione universitaria, per garantire quindi quella formazione linguistica indispensabile per proseguire gli studi in Italia. All'interno del campus troverete anche un ufficio preposto solo ed esclusivamente per gli studenti cinesi, affinché in qualsiasi momento della giornata voi potrete rivolgere gli studi in Italia. e ottenere tutte le informazioni di cui avrete bisogno. che sono interessato quindi a seguire il corso di lingua italiana che è obbligatorio per tutti gli studenti cinesi che studiano in Italia presso un programma italiana. un'accademia, un conservatorio, può scrivere all'indirizzo e-mail che trova nel nostro sito internet ciels.it. Scrivete, vi invieremo tutte le informazioni sulla durata del corso, quando cominciano e vi accompagneremo con tutta la documentazione necessaria per iniziare questa nuova esperienza formativa qui in Italia.